Ti prego, Babbo Natale, leggi la mia letterina, fare il bravo, giuro, giuro, giuro. Orca miseria! Oh, ma tu chi sei? Antonio, hai letto la mia letterina? Beh sì, è certo che l'ho letta. Ce l'ho tutta quanta qua. Quindi mi porti sulla slitta? Sì che ti porto. Sono venuto apposta. Sì, sì, sì. Sì, sì, sono venuto apposta per dirti che però ti porto dopo, perché la slitta si è rotta e adesso sarà la meccanica, capito? Ti preoccupare. Per questo usi la corda e non scendi dal camino? Bravo, a te non ti sfuggi niente, eh? Adesso però facciamo una bella cosa. Vieni con me. Adesso ci mettiamo subito a dinna però, eh? Va bene? Poi come il meccanico mi dà la slitta, io ti vengo a prendere, va bene? Vieni con me.